Ciao a tutti ragazzi e ragazze sono tornata con un altro video haul di Aliexpress oggi mi sono arrivati 4 pacchettini ed ora ve li mostrerò mi sono già facilitata nell'apertura e niente, allora primo pacchettino da notare è questa carta, veramente brutta sembra la carta quella da cucina quando si fa il fritto vabbè, dettagli allora, dentro questo pacchettino c'erano queste due rotelline scusate la mia voce ma ho tosse raffreddore e mal di gola allora, dentro questo pacchettino appunto c'erano queste due rotelline pagate meno di un euro sicuramente prese dallo stesso venditore e ora ve le mostro allora, apriamo questa qui questa qui ci sono cuoricini cuoricini, cuoricini, cuoricini però ci sono cuoricini sia pieni e sia vuoti non so, ecco, si si vede dai, metti a fuoco si cuoricini, cuoricini, stelline, fiorellini fiorellini, fiorellini, cuoricini, stelline e stelline e ci sono tutti questi colori questo rosato, oro, argento, arancione, rosa, verde, giallo, rosso, lilla, verde queste stelline bianche che fanno questi effetti con il rosa queste, non so se si nota un minimo avviciniamo e poi queste stelline rosa ora ve le mostro più da vicino ed eccole qua di prodotto ce n'è abbastanza come potete notare quindi non è che non c'è e queste qui pagate meno di un euro prossima rotellina sono queste gocce dove ci sono tutti questi colori appunto c'è il viola l'argento il blu il fucsia, il verde scuro il giallo che tende all'oro il rosso l'azzurro, il rosa, il verde più chiaro il viola e il nero anche qui di prodotto ce n'è tanto e niente adesso ve ne mostro una più da vicino sono queste gocce gemme non saprei come chiamarle ma molto belle eccole guardate pure come luccicano ebbene poi prossimo pacchettino allora prossimo pacchettino questo qui questo qui è un ombretto wow cioè guardate quanto luccica è della Poudaier non so come si pronuncia ed è il numero uno i link vi li lascerò tutti qua giù in basso in questa zona qui e guardate quanto è bello cioè parliamone è veramente stupendo guardiamo se rimane molto gelatinoso in un certo senso molto gelatinoso ha una consistenza si gelatinosa non è il classico ombretto infatti vedete che di prodotto sembra che ne prendo tanto tanto poi in realtà rimane solo in quella zona lì concentrato cioè rimane veramente una consistenza gelatinosa e poi quasi si indurisce una volta applicato comunque si nota cioè guardate anche nella telecamera si nota benissimo e niente lo proverò comunque questo è di questa marca qui Poudaier spero che si pronuncia così ed è il numero 1 anche questo pagato meno di 2 euro sicuramente ha impiegato se non sbaglio un mesetto ad arrivare poi prossimo pacchettino vediamo tutto prossimo pacchettino nooo nooo vabbè e questa cover c'è vabbè ragazzi è stupenda questa l'aspettavo da tanto infatti che adesso è arrivata sono veramente non contenta di più cioè guardate che meraviglia con questo unicorno cioè no veramente poi guardate anche dentro oh cioè no veramente stupenda non ho parole mi ricordo che per il mio modello di telefono che ho un asus selfie non mi ricordo comunque ve lo scrivo nell'info box che telefono e la cover e questa cover mi sembra di averla pagata su 2 euro qualcosa 3 euro comunque sia ne vale la pena perché una cover così in un negozio costava sicuramente di più e mi ricordo che oltre all'unicorno c'era anche il gufo c'era un gufo tutto lavorato infatti ero indecisa anche per quella cover lì l'unicorno c'era anche in azzurro c'aveva questa parte qui in azzurro poi mi ricordo che c'era anche il bicchiere con dentro sempre questa acqua brillantinata glitterata comunque vi lascio il link qua che se siete interessati potete prenderla però è stupenda cioè veramente wow 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 stupendissima poi guardate quanto sbirlucica fatta bene è attaccata benissimo non posso dire a dentro è così è morbida quindi solamente questa parte qui è rigida ma è normale perché c'è attaccato l'unicorno comunque è morbida ben rifinita e tutto poi prossimo ed ultimo pacchettino vediamo c'è questo portachiave che questo in realtà è un regalo per mia suocera ed è questo gatto molto carino ecco ve lo metto così così forse riuscite a vedere meglio con questa palla pelosona molto carino bello morbido anche il pelo rimane veramente morbido morbido e c'era di tutti i colori blu rosso bianco nero giallo se non ricordo male anche verde rosa fucsia viola di tutti i colori anche questo ho pagato meno di 2 euro forse meno di 2 euro tanto mia suocera il video non lo vedrà mai quindi non ho problemi ok molto carino e ben finito e niente già sono finiti i pacchetti uffa vi metto tutto qua no ma ragazzi ma quant'è bella questa cover cioè parliamone me ne sono innamorata vabbè e dettagli e niente per oggi i pacchettini sono questi per oggi è tutto iscrivetevi al mio canale lasciatemi un bel pollicione in su un bacione a tutti e ciao ciao al prossimo video